Buongiorno, buon martedì 27 novembre. Ben trovati con la redazione di Molise Tg. Iniziamo subito la lettura dei nostri quotidiani. Primaria e dirigenza sotto accusa in vivico, la poltrona di leve così che apre il quotidiano del Molise. Michela Fanelli, lo Stato maggiore del PD, ha ottenuto la percentuale più bassa del Sud. Società partecipata, il vitaliano rimette la delega nelle mani di Iorio. Palazzo Moffa avanti tutta con lo statuto, nuovo stop per la legge elettorale. A Esernia, presidenza del Consiglio, si fa avanti l'ipotesi Mancini. Campobasso, il questore accoglie il prefetto, due molisani autentici al servizio dello Stato. Per lo sport Lega Pro, oggi arriva la Ceneb, under, vertice tra il dirigente sportivo e il presidente. Emergenza in difesa, squalificati sia Minadeo che Boi. Qualità della vita a Campobasso e Esernia perdono punti in classifica. Vediamo le pagine interne. PD trema la poltrona di leva. Il successo della Fanelli collegato alle percentuali di Renzi. Il balottaggio potrebbe provocare un vero terremoto all'interno della dirigenza. Effetto vendola, sel entusiasta, paglione. L'esito influirà sugli equilibri politici regionali. Centro-sinistra, quindi ancora politica. A mercoledì il tavolo, frattura convocato a Via Ferrari. A Santo Stefano un gazebo fantasma. A Sant'Elia, schede contestate. Partiti S.P.A. Braccarini svela in retroscena. Il giornalista del giornale indaga sui fondi pubblici e gruppi. Iorio, il sistema è drogato e sbagliato. La terza pagina del quotidiano del Molise è dedicata nel dettaglio ai risultati delle primarie del centro-sinistra. Il voto al microscopio è così che intitola l'articolo. Al primo turno Bersani e Renzi si spartiscono il bottino. Il balottaggio tra i due esponenti del PD si svolgerà domenica prossima. E adesso andiamo a vedere il quotidiano telematico di Informa Molise. A ventizi dello zuccherificio avitaliano, noi costretti a tagli ingiusti. La parcella dell'amministratore invece è lievitata. Movimento 5 Stelle Molise, candidati inventati. Gratta e vinci il governatore. Punti di vista, ordine di carcerazione per Sallusti. Rustica, progenies, sempre villana, fuit. Di Pietro Allarino abbiamo il dovere dell'unità per superare Monti e Iorio. Punti di vista regionali, in Molise i partiti sono paralizzati. Passiamo alla Gazzetta del Molise e nel particolare andiamo a vedere a chi oggi viene assegnato il tapiro, a chi invece è l'Oscar del giorno. Quest'ultimo va proprio al presidente della regione Michele Iorio, che dopo le vicissitudini dello zuccherificio con tutti i guasti dal punto di vista dei lavoratori, ha deciso che per la Solagrital non sarà Alberto Alfieri l'amministratore, così come spingeva l'assessore Vitaliano. Sarà quindi il governatore a individuare una figura capace di muoversi per il lancio dell'azienda avicola di Boiano. Il tapiro del giorno va invece al Gianfranco Vitaliano, ricordiamo ex assessore alle partecipate regionali, che ha rimesso la delega al presidente risentito per la soluzione data da Iorio alla vicenda Solagrital GAM. Per quanto riguarda la politica, le primarie in Molise vedono il brillante risultato di Vendola. Ancora a Regione, la proposta del piano della sanità torna ad affacciarsi in Consiglio. Edilizia, un settore in ginocchio, mancano nuovi investimenti e i progetti. Anche qui addentriamoci nelle prime pagine. Consiglio, Pietracupa fa chiarezza, martedì arriva in aula la materia sanitaria sulla legge elettorale, non c'è invece accordo. Il presidente sarà il nostro contributo al lavoro dei commissari. La politica si scalda dopo la sortita di Iorio. Botta e risposta il sindaco Facciolla, romano il migliore alleato del presidente, la replica dell'esponente di Costruire Democrazia, è lui l'alfiere del consociativismo con Vitaliano. Terza pagina dedicata interamente a Vitaliano, che lascia la delega ma dovrebbe dimettersi. Voleva la sola greta l'amministratore dello zuccherificio, poi sbatte la porta. La lettera del comitato a Ventizi. Caro assessore, ti rendi conto dei danni prodotti a noi lavoratori? Spostiamoci adesso alla lettura di primo piano Molise. Legge elettorale stop di Pietracupa. Il presidente del Consiglio regionale frena il centrodestra, prima lo statuto. Si arena il dibattito sulle regole del gioco, il rischio di tornare alle urne con listino e voto disgiunto. Monteroduni rubato il tesoro della Madonna addolorata. L'oro era custodito dalle suore in una cassaforte. Campobasto non risponde al GIP, resta in cella il molestatore. Ricordiamo che è stato arrestato per aver costretto una 19enne a masturbarlo. Castelpetroso si perde nei boschi, paura per un giovane. Le ricerche concentrate ai piedi di Monte Patalecchia. Il day after per le primarie del centro-sinistra, Bersani, non sfonda in Molise. Leva convocato nella capitale. Il segretario del PD raccoglie la percentuale più bassa del sud. Il rapporto sull'indagine del quotidiano Il Sole 24 ore di ieri, qualità della vita bocciate sia a Esernia che a Campobasso. I due capoluoghi sono agli ultimi posti. A Venafro, Natale Amaro per i 41, operai della Precal, né stipendio né CIG, tempi lunghi per gli ammortizzatori. Per lo sport, Lega Pro, Lupi, il dirigente sportivo Ciccone, chiederà a Capone di rinunciare al minutaggio. Serie D, vandalismo al Cannassa, tifosi pentri e stranei ai fatti. Vediamo le pagine interne. Legge elettorale, Pietracupa frena prima lo statuto e serve condivisione. Riunione infuocata dei capigruppo, poi a Palazzo Moffa arriva Rai News. Il day after delle primarie, tutti soddisfatti, Bersani vince anche in Molise, ma non sfonda. L'intervista a Solagri, tal perché Vitaliano dissente, non tutti sanno fare i trapianti. L'assessore ha restituito la delega alle partecipate. Volevo valorizzare altre capacità per salvare l'azienda. A Sdrem, la Fialz denuncia grave carenza di personale. Il segretario Carmine Vasile ha a rischio la qualità dell'assistenza. E spostiamoci adesso ai fatti del nuovo Molise. Riforma del voto tracciata la via. Il 19 dicembre arriva lo statuto per la seconda lettura, riduzione dei consiglieri da 30 a 20. L'assemblea regionale non discuterà la proposta dell'Udeur. Niro, se mi prendono in giro, invoco il regolamento. Zuccherificio, gli avventizi buttati nella spazzatura. Termoli, una parte del personale è infatti senza futuro. Le notizie del giorno. Dalle primarie un centrosinistra che si ricompatta. Dopo il ballottaggio si aprono infatti nuovi scenari. Colli al volturno. Il comune chiede la tribuna inagibile. Non potrà ospitare la tifoseria ospite. Chiedo scusa, il comune chiude la tribuna inagibile. Di Luozzo in corsa per riprendersi l'istituto Igea. Ci sarebbe una unica offerta di acquisto. Allarme e criminalità nelle campagne del basso Molise. Presi di mira diversi mezzi agricoli. Spostiamoci all'interno. Primarie partiti in ricomposizione. Il balottaggio tra Bersani e Renzi potrebbe ricompattare PD, IDV e SEL. Gli accordi per le politiche fanno da sponda per il sì sulla leadership di Frattura. Il fondo della seconda pagina è dedicata ai vari commenti locali sia dal PD che di SEL. PD Danilo Leva per SEL Candido Paglione. Iorio e Romano spiazzano tutti. Il dibattito politico si trasforma in sotterfugi per le elezioni. Riforma del voto. Pietracupa ribadisce il no. Il presidente del Consiglio convoca la stampa. Per ora non si discuterà. Partiti S.P.A. Questa l'ultima fatica del giornalista Bracalini. Ieri sera la presentazione del libro a Campobasso. Spostiamoci adesso al tempo naturalmente alle pagine dedicate alla nostra regione. Cala a picco la qualità della vita. Turismo, lavoro, economia e salute. Tutti gli indicatori sono in ribasso. Studio del sole 24 ore, come detto prima, boccia alle province che finiscono agli ultimi posti della classifica. A Termoli la città perde l'ufficio del giudice di pace. Asdrem a scuola per prevenire incidenti stradali e domestici. Il progetto è realizzato con l'ufficio scolastico. Reddito basso la regione fa registrare 17 mila euro pro capite, la metà di quella di Milano. Regionali PRC va al voto senza il centrosinistra. Il partito darà vita a una coalizione alternativa ai due schieramenti principali. A Campobasso pistole e munizioni in auto 38enne denunciato. Spostiamoci adesso alla stampa nazionale. Leggiamo le aperture. Bersani-Renzi duello finale. Riparte lo scontro sulle regole. Vendola si schiera con il segretario così che apre la Repubblica. Polemica anche sui risultati finali. Nuovi punti di distacco tra gli sfidanti. Il sindaco di Firenze chiede di aprire la partecipazione al ballottaggio. E poi qui naturalmente si riprende quello che sta succedendo a Taranto. Ilva, sette arresti per inquinamento. L'azienda chiude 5.000 operai a casa. Il GIP accusa il governatore pogliese. Il Senato affonda la legge Bavaglio. Bocciato il carcere, s'allusti ai domiciliari dalla Sant'Anché. L'Ilva chiude caos a Taranto. È così che apre il messaggero blitz dei magistrati. Sette arresti. Ferrante indagato. Provvedimenti anche contro il Riva. In 5.000 a casa gli operai occupano la fabbrica. Il governo intanto convoca un vertice. Si riprendono le primarie. Duello sui risultati e ballottaggi. Bersani sta carenzi di 9 punti e apre a vendola. L'anniversario. Il caffè come rito casalingo. La moca compie 80 anni. La mostra, tavola d'ore e il dipinto attribuito a Leonardo. Orrore in Siria. Bombe sul parco. Strage di bambini. Damasco. Le bombe a grappolo sganciate su un campetto da calcio alla periferia della capitale siriana. Fatto una strage di bambini. E' accusato un aereo del regime. Dramma. Ilva. 5.000 a casa. E' così che apre la stampa. Taranto. Riva. Blocca l'acciaieria. Bege degli operai disattivati. Esciopero. Monti studia intanto un decreto e convoca per giovedienti, locali e parti sociali. Preoccupazione per gli altri impianti italiani. Ancora primarie. Bersani Renzi. Ora è a caccia ai voti di Vendo. La battaglia sulle regole. Domani il faccia a faccia in tv. Carcere ai giornalisti. Stop del Senato. L'aula col voto segreto boccia il disegno di legge sulla diffamazione. Sallusti ai domiciliari. Spostiamoci adesso al Corriere della Sera. Ilva chiude. 5.000 a casa. La risposta ai 7 arresti decisi dai magistrati di Taranto. L'azienda annuncia il blocco anche di altri stabilimenti. La fiuma agli operai restati in fabbrica. Centro-sinistra Renzi apre la sfida del secondo turno chiedendo nuove regole per chi vota. Bersani avanti di 9,4 punti ma il sindaco contesta i dati. Strage di bambini come Guernica, la Siria e l'Europa che non può stare a guardare. Primaria e farsa. Ecco le prove così che apre libero. Abbiamo votato tre volte. Nel PD balletto sulle cifre dell'affluenza. Mistero sullo scrutinio, scontro su risultati e regole e quanto ai controlli anti-brogli. Capi correnti all'opera. Tutti i colpi bassi dei dinosauri per papparsi il PDL. Capolavoro dei tecnici. L'Ilva chiude 50.000 famiglie a terra. Nelle carte dell'inchiesta spunta anche Nichi Vendoli per una intercettazione telefonica. Goldman Sachs tira la volata a Monti. Prof vuole il bis, la sua ex banca lo aiuta. Schiaffo Merkel, pensioni più ricche, la campagna elettorale della cancelliera. E adesso spostiamoci al giornale. Sallusti agli arresti. Naturalmente questa è la prima pagina del giornale. Vergogna compiuta. La procura di Milano ha deciso, va ai domiciliari. Gli tolgono la libertà. Il direttore, ma io, continuo a lavorare. Il PDL al Senato fa saltare la legge anti-giornalisti. Riparte tutto da zero. Poi si riprende il caso delle primarie. Così Renzi ha distrutto il monolite della sinistra. Comunque vada a finire. Il futuro del centrodestra. Silvio, cambiamo tutto. E Alfano prepara il divorzio. Naturalmente anche il giornale si sofferma su Taranto. E quindi sulla questione dell'Ilva. Che chiude ira dei prof. E Vendola finisce indagato. Spostiamoci adesso allo quotidiano economico del sole 24 ore. Anche il sole 24 ore ha deciso di aprire con il caso dell'Ilva. Nuovo sequestro. L'Ilva chiude. Giovedì vertice a Palazzo Chigi. Confindustria. Impatto gravissimo sull'industria. A Taranto sette arresti. Tra cui Fabio Riva. Indagato anche Ferrante. Bloccata la produzione degli ultimi quattro mesi. Grecia. Stretta finale tra Unione Europea e FMI. Ad Atene saranno concessi due anni in più per risanamento dei conti. Trattative a oltranza all'Eurogruppo. Il fondo altri aiuti solo se il debito viene tagliato di 25 miliardi. In formazione dei diritti. L'occasione persa e la libertà di Sallusti da preservare. Ancora Napolitano. Evitare passi indietro a fine legislatura. Squinzi. Condivido l'appello al 200%. Subito la delega fiscale. Invito ai partiti. Sforzo costruttivo sulle riforme. Anche il sole 24 ore riprende le primarie. Bersani Renzi sfida due. Polemica su risultati e regole. Si va quindi al ballottaggio domenica prossima. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Partiamo dal correre dello sport. Arriva il Napoli. Senza Cavani e Pandev è decisivo Amsic. Gol 1-0. Ora la vetta è a due punti. Avanti noi ci crediamo. I bianconeri sono in crisi. Pochi risultati e nervi tesi. Gli azzurri passano a Cagliari. Piombano sulla Juve. L'Inter invece crolla e si fa scavalcare. I nerazzurri battuti a Parma ieri sera per 1-0. Che scivolano quindi al terzo posto. Sansone mette K.O. Stramaccioni. Solo delusioni dopo il trionfio di Torino. Stasera intanto si chiude con Lazio-Udinesi. Berlusconi punge. Milan vincere. Così è stato il massimo. Per la Coppa Italia apre Palermo-Verona. Domani la Fiorentina. Gaecic a Cremona. Giovedì il primo interrogatorio. L'ex centrocampista del Bellinzone è considerato il capo degli Zingari. E tra dieci giorni arriva i lievischi. Barsa record. Undici giocatori della Cantera. Domenica sera contro il Levante. Schierato una squadra cresciuta nel Vivaio. E a Madrid rabbia su Murigno. Formula 1. Alonso in massa. Promozione doppia. Ferrari rimandata. Le nostre pagelle. I due piloti hanno reso più della macchina Raikkonen. Rientrato da grande. Chiudiamo come d'abitudine con la Gazzetta dello Sport. Che ovviamente dedica la prima pagina all'Inter. Che scivola. Napoli l'anti-Juve. Pesa l'assenza di Cassano. Impresa del Parma con Bebi Sansone. Amsic condanna il Cagliari azzurri. Secondi a due punti dalla vetta. Serie A per Stramaccioni. Due sconfitte. E un pari nelle ultime tre partite. Il piano di Berlusconi. Avanti con Allegri. Il Milan degli olandesi nella storia. Oggi arriva in casa rossonera l'agente di Pato. Retroscena. Anatomia del rigore che non c'era. Questo naturalmente parliamo del caso del rigore assegnato al Milan a San Siro contro la Juventus. Nedved Marotta in aiuto di Conte. Quagliarella multato per lo sfogo. Siamo in casa bianconera. Scatta l'unità di crisi a Vinovo. Stasera occasione Lazio contro l'Udinese. De Guastafeste. Petkovic. Anche noi possiamo competere per lo scudetto. All'Olimpico stasera quindi andrà in scena l'ultimo posticipo. Ghecik. Lo Zinnaro. La mia verità. In Italia le partite di A sono in vendita. C'è un Mr. X. Si è costituito il latitante numero uno dell'inchiesta scommesse. Vettel. Resto in Red Bull. Possiamo vincere tanto così che si è espresso il campione. E per quanto riguarda la lettura delle prime pagine dei quotidiani e tutto, vediamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per martedì 27 novembre 2012. Sul Molise nuvolosità in aumento, comprime precipitazioni. Temperature senza variazioni significative. Venti deboli meridionali, moderati in serata. Mari poco mossi, a tratti mossi a fine giornata. Vediamo ora in dettaglio le temperature. Campo basso minima 8, massima 13 gradi. Iserni a minima 7, massima 16 gradi. Termoli minima 12, massima 18 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. La nostra rasegna stampa termina qui. Vi ricordo, se vorrete, l'appuntamento con la nostra informazione alle 13 e 50. Buona giornata.